Harvey Weinstein ha raggiunto con il procuratore generale di New York un accordo da 44 milioni di dollari per risolvere l'azione legale intentata nei suoi confronti da alcune donne che lo hanno accusato di abusi sessuali. In base all'accordo circa 30 milioni di dollari andranno ripartiti tra alcune accusatrici, creditori dell'ex studio di produzione cinematografico di Weinstein ed ex dipendenti il resto della somma coprirà le spese legali per il pool di avvocati che difende l'ex re di Hollywood.